Grande partecipazione ed entusiasmo per la Corri Gubbio Night, corsa podistica in notturna di Sant'Agostino, giunta alla sesta edizione ed organizzata dalla Gubbio Runners. Il programma prevedeva partenza dal piazzale della Chiesa di Sant'Agostino via Porta Romana, dopodiché una corsa competitiva di 8 km con tre giri del centro storico Gubbino ed un'altra non competitiva di un chilometro, equivalente ad un giro di Gubbio. Oltre 100 podisti ed appassionati hanno partecipato all'edizione 2014 che ha richiamato anche tantissime persone che hanno seguito i runners in tutto il percorso. A vincere nella categoria maschile è stato Lorenzo Verni della Marathon Città di Castello, capace di chiudere in 23 minuti e 44 secondi, secondo posto per Giorgio Tiberi della podistica Valtenna, arrivato 15 secondi dopo il vincitore, mentre la terza piazza è andata a Yassin El Khalil del circolo di pendenti Perugina che ha terminato il tragetto in 24 minuti e 18 secondi per i portacolori Gubini, settimo posto per Marco Busto in 26 minuti e 45 secondi, seguito in successione da Cristiano Alegrucci, Marco Dionisi, Matteo Galuppa e Gabriele Licata, tutti della Gubbio Runners, arrivati tra l'ottava e l'undicesima posizione. Sempre dalla società podistica Gubina da segnalare il 17esimo posto di Cristian Bartoletti, seguito da Andrea Mariucci. Nella classifica femminile, invece, primo posto per l'imprendibile Laura Mosconi della Dream Runners Perugia, capace di chiudere con un supertempo di 28 minuti e 29 secondi. Dietro si afferma Francesca Dottori del circolo di pendenti Perugini in 29 minuti e 14 secondi, con podio completato da Laura Carmera Pantano del Running Evolution Roma. Per quanto riguarda i vincitori di categoria, Daniele Petrini della Visperugia conquista categorie amatori, Valerius Cassellati del Taino Gualdo Tadino trionfa nel SM35, nei 40 si afferma Evian Morani di Assisi Runners, mentre nei 45 tocca Stefano Renzetti di G-Point. Ancora Marco Busto della Gubbio Runners, primo nell'SM50, con Mario Pizzoferrato di Triatonalto Tevere nell'SM55. Griffa l'SM60 invece Giuliano Barchesi della podistica Valtenna, con Luciano Biscarini dell'Avis Perugia, primo nell'SM65. Tra le donne, la categoria Under 40 va Martina Bartoli dell'Avis Sansepolcro, mentre nell'Over 40 successo per Martina Cristina Draioli dell'Assisi Runners. Ed ora l'appuntamento è fissato per le ore 9.30 di domenica 14 settembre, con la diciottesima edizione della Corrigubbio, con doppio percorso di 21 e 10 chilometri, oltre alla corso passeggiata non competitiva di beneficenza Run4U.